Al pane e all'arte bianca Confesercenti dedica l'evento dell'11 e 12 maggio a Pesaro dal titolo Cultura Panis, il pane e la panificazione artigianale tra tradizione e futuro. L'iniziativa che si avvale della collaborazione della Caritas rientra negli eventi di Pesaro Capitale Italiana della Cultura. È un evento unico che è diviso in due parti, voluto dalla Confesercenti nazionale, da Asso Panificatori e Fiesa, che sono i nostri due sindacati di riferimento, in occasione proprio della Capitale della Cultura. Il pane e cultura ci dà anche, oltre all'nutrimento, tanta soddisfazione a livello psicologico. Il programma dell'evento prevede una mostra con i mastri fornai provenienti da tutta Italia, che esporranno i loro prodotti regionali a Palazzo Gradari. A seguire al Teatro Rossini si terrà un convegno e verrà presentata la ricerca di Confesercenti sul consumo di pane e il valore della panificazione artigianale. Il pane fatto artigianalmente, il pane non industriale, è un pane che arriva oltretutto da tutta Italia. Lo vedrete nella nostra mostra che verrà allestita all'interno del Palazzo Gradari, insieme a una mostra fotografica. Finito quello, ci trasferiremo tutti al Teatro Rossini, presso la Sala della Repubblica, per un convegno in cui verranno illustrati i benefici del pane, ci saranno anche nutrizionisti e i nostri presidenti che arriveranno da Roma. L'iniziativa è di rilievo e arriva in un periodo delicato per i panificatori. Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è registrato un calo notevole del consumo del pane, un prodotto alimentare da sempre simbolo di cultura, tradizione, ma anche di pace, solidarietà e condivisione. Domenica mattina saranno oltre 3.000 i panini che verranno distribuiti all'esterno delle chiese, ad aderire all'iniziativa 11 parrocchie di Pesaro. Verrà distribuito un panino come simbolico, diciamo, per la tradizione del pane e come il pane per un evento per la pace, perché non dimentichiamo i momenti in cui viviamo, che la pace, secondo me, è sempre la prima cosa che noi dobbiamo svegliarsi la mattina e cercare di costruirla. Purtroppo non è così. E ora facciamo, con tutte le chiese, per raccogliere dei fondi per la Caritas, che dovranno, diciamo, operare in quei settori della guerra per realizzare qualche beneficio per questa popolazione che sono martoriata dalla guerra. Grazie.